Trovi la persona, trovi quella borsa e avrà 100.000 dollari. Ha parlato seriamente, vero? Ha fino alla prossima fermata per decidere che tipo di persona è lei. Perché mi stai seguendo? Questo treno mi sta spaventando. Complimenti, Mike. Pensavo che avresti perso il treno. Voglio parlare con mia moglie e mio figlio. Il treno della Ierati si può.